il timore di rimanere al freddo d'inverno quando scegli la pompa di calore con cui riscaldare la tua casa è fondatissimo ma non perché la macchina non funziona non mi stancherò mai di ripetere che la pompa di calore è il sistema migliore che tu puoi scegliere perché ti permette di riscaldare di umidificare e raffrescare la tua abitazione in modo intelligente e sempre meno oneroso in particolar modo quando la abbini intelligentemente al fotovoltaico ma le famiglie che purtroppo hanno fatto questa scelta e non hanno i benefici desiderati sono veramente tante ed i motivi sono sempre solo due primo hanno scelto una macchina sbagliata magari affidandosi al brand famoso di caldaie o condizionatori che poi li hanno lasciati in panna nei momenti di bisogno secondo hanno scelto i professionisti sbagliati che non hanno progettato e montato come si deve l'impianto perché ancora convinti che caldaie e pompa di calore siano la stessa cosa e pensano che tanto basta leggere il libretto delle istruzioni ma informarsi e capire dove sta l'errore per rimediare o per non commetterlo più in futuro è difficile è sempre più facile dire che il sistema non funziona e quindi evitare di prendersi qualsiasi responsabilità in merito ma questa storia deve finire perché con la tecnologia delle termopompe professionali oggi questi sistemi sono in grado di migliorare il nostro comfort sfruttando in modo intelligente il sole senza crearti nessun problema nemmeno quando fuori fa freddo il problema vero quello da risolvere sta nella conoscenza che hanno le persone alla quale ti affidi il futuro del riscaldamento e del raffrescamento della tua nuova casa sta tutto lì lì fuori ci sono un sacco di professionisti che non devono nemmeno nominare la parola pompa di calore o termopompe professionali perché non hanno nemmeno il minimo di conoscenza che serve ma ce ne sono anche tante altre che invece hanno già fatto esperienza e come me hanno anche commesso i loro errori ma hanno approfondito la materia ed ora possono consigliarti più serenamente ecco il mio lavoro più importante è quello aiutarti a scegliere senza commettere errori anche indicandoti con chi è meglio realizzare certi impianti e con chi è meglio proprio evitare di averci a che fare se vuoi ottenere il massimo dei tuoi impianti e la tua scelta è per la casa no gas prima di investire un sacco di tempo per non trovare mai la soluzione desiderata clicca nel link che trovi sulla descrizione del video e richiedi la mia analisi telefonica condividerò con te sin da subito i primi ragionamenti che ti permetteranno di ottimizzare il tuo investimento senza accettare compromessi per oggi è tutto un saluto alla prossima